Centinaia di aretini non sono voluti ancora una volta mancare tra la cattedrale e il prato o in altri punti strategici per ammirare lo spettacolo perotecnico di San Donato, patrono della città di Arezzo. Le celebrazioni erano cominciate in cattedrale con la tradizione della donazione di ceri alla quale hanno partecipato anche molti sindaci degli altri comuni. Poi musici con sueti fuochi d'artificio che hanno abbastanza soddisfatto gli aretini a eccezione di quelli più bassi che a malapena si vedevano, modo comunque per stare insieme sia religiosamente che dal punto di vista del divertimento al santo patrono di Arezzo, sempre particolarmente amato e ricordato dal suo popolo. musici con sui musici con sui musici con sui